... La uova e le donne, la mia campagna è un'esistenza. E la mia campagna è un'esistenza. E la mia campagna è un'esistenza. Ehi, a tutti, a tutti, a tutti. Ehi, a tutti. Grande. E' un passaggio. Un e due prezzi di questa campagna. Ehi, a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.